Buon pomeriggio dallo Juventus Stadium, dove vi salutano Riccardo Trevisani e da Franco Causio. Va a puntare ancora a sinistro, finta nuovamente, destro alla fine del pallone, arriva! E sotto porta, non riesce a segnare Chiellini, il gol dell'1-0. Il cross di Riksteiner dentro l'area di rigore, Sormas così così, Marchisio è sforbiciata, non trova lo specchio della porta, ha provato il super gol, Claudio Marchisio. Il cross dentro per Migliaccio, pallone prolungato, c'è Ilicic, c'è di rigore, Ilicic, Buffon, superlativo in uscita, e pallone in calcio d'angolo, prima palla gol anche per il Palermo. Chiellini che può mettere il cross, lo fa partire adesso per Pepe! Simone Pepe, 1-0 per la Juventus, secondo gol in campionato, è 1-0! Qui voglio vedere perché c'è stata un'indecisione tra Cetto e Balzaretti, credo e Pepe di testa ha fatto gol. Grande palla per Pirlo, al limite dell'area di rigore, Pirlo col destro, centra in pieno il palo, arriva Matri col sinistro, salva Eros Pisano, opportunità per il raddoppio per la Juventus, che quando può andare negli spazi, gioca che è un piacere per gli occhi. Nicoli porta palla con l'esterno, allarga magicamente per Ilicic, gran pallone, Ilicic può andare col sinistro, Buffon gli dice di no ancora una volta, e il pallone finisce in calcio d'angolo. Adesso pallone dentro, buono per la Juventus, con Matri! Riccardo, che fa 2-0 in diagonale, grandissimo gol di Matri, raddoppio della Juve, in apertura di secondo tempo. Riccardo, lascia vedere un'altra ingenuità, guarda Setto, la posizione di Setto in questo momento qua. Sinceramente non può un centrale difensivo lasciare tutto quello spazio a Matri. Qui apertura per Vucinic, a vuoto Pisano, un po' in difficoltà Pisano, Vucinic lo salta, vuole il destro a giro! La palla è fuori, incredibile giocata di Montenegrino che si è acceso all'improvviso. Si propone ancora Marchisio, Vidal va a largo da Vucinic, ancora in uno contro uno con Pisano, nessuno va a raddoppiare, Vucinic allora punta, offre il pallone a Marchisio, Marchisio! 3-0, velo di Matri, azione fantastica, è terribile questa Juve, 3-0! Passaggio di Vucinic, velo di Matri, con freddezza, ha stoppato la palla, ha battuto Zorbas. Qui Pirlo, fa correre ancora Vucinic, che parte in posizione regolare, sta tagliando Pepe, sta arrivando anche Matri, Vucinic al lato corto, cerca il pallonetto! Non servendo Matri e Pepe, ma voleva il gol. Il direttore di gara di Genova decide che basta così, finisce Juventus-Palermo, è un trionfo allo Juventus Stadium.